Siamo con Mauro Casteri, presidente della scuola basket Arezzo, Federico Fracassi, dirigente. Allora, che cosa è successo ieri, Federico? Ma dunque è stato un fatto ovviamente inusuale. Purtroppo abbiamo avuto un ragazzo che durante l'amichevole della nostra scuola del 19 si è sentito male. Grazie all'intervento rapido dei due allenatori, proseguito sia il nostro che quello del CMB Valdarno, si sono iniziate subito le prime cure a questo ragazzo che ovviamente apparentemente era fermo in terra senza nessun tipo di forze, di reazioni. Poi ovviamente siamo intervenuti anche con il defibrillatore, il nostro allenatore ha preso la situazione sotto controllo e ha proseguito le cure. Fortunatamente è andato tutto bene, è arrivata l'ambulanza, il ragazzo è andato poi in ospedale, però ecco è stata una situazione dove chi era lì presente in quel momento è stato super freddo e ha svolto tutto quello che noi ci prepariamo nei corsi. Un malore improvviso in 17 anni poteva essere fatale un atleta. Mauro, voi puntate molto alla sicurezza e anche alla tutela della salute perché so che fate diversi corsi. Sì, noi da tanti anni ormai cominciamo a preparare i primi corsi e poi tutti gli anni ci sono gli aggiornamenti proprio per evitare queste problematiche. Lo facciamo sia, obblighiamo gli allenatori a fare questo corso e anche qualche genitore e accompagnatore che ci dà una mano. perché noi credo negli ultimi dieci anni, otto anni, abbiamo formato più di cento persone proprio perché il nostro torneo Guidelli lo prevede perché ci sono tanti campi da controllare e per noi è stata una prova importantissima questa perché intorno a questo ragazzo eravamo tre o quattro persone che sapevano usare questo DAE e la velocità del nostro allenatore Umberto Vezzosi penso che abbia fatto sì di aver salvato la vita a questo ragazzo. Bisogna avere tanto sangue freddo perché poi dall'imparare certe cose e metterle in pratica in una situazione drammatica non è facile. Esatto, è proprio questo. Infatti, questo ad esempio, l'ho detto al nostro allenatore, la differenza fra me e te, ora io a parte che non ero in condizioni fisiche di farlo però quando sono arrivato, diciamo, c'era proprio tutto il macchinario pronto per fortuna la manovra è stata fatta bene c'era una persona che faceva il massaggio cardiaco come è previsto in questi corsi. Noi l'abbiamo, essendo presidente di una società, ho sempre voluto la responsabilità è tanta e quindi ci sembra quasi normale fare questa cosa. Lo so che delle volte è una scocciatura, so che è una spesa però credo che questa cosa sia più importante, come ho detto qualche collega, sia più importante di vincere un campionato. Stamattina sono andato a trovare il ragazzo, il ragazzo sta bene, sta facendo i controlli e questo per noi è veramente una gioia immensa. Quindi il 118 è arrivato dopo, però ho visto che avete fatto praticamente tutto voi. Sì, ovviamente è passato del tempo, prima che arrivasse l'automedica a noi sembrava un tempo infinito, poi nella realtà non è stato così e dobbiamo ringraziare anche per la rapidità dell'intervento del 118 che da parte sua con il direttore Nocentini ci hanno fatto i complimenti per come è stata gestita questa cosa, ci hanno anche invitato a visitare la loro centrale anche per capire ancora da più vicino il ruolo che è stato fondamentale anche nel nostro caso della persona che ha risposto al telefono della nostra chiamata perché ovviamente i tempi in queste situazioni sono fondamentali e quindi è andato tutto bene per tutta una serie. Noi siamo stati bravi e freddi e insomma il 118 ha funzionato alla perfezione perché bisogna dire è andato tutto bene.